Eeeh what's up a tutti c'è ormai e benvenuti da giocherina in questa nuovissima reaction Ebbene ragazzi uscito anche questo dallo set of play dell'ultimi giorni Ragazzi veramente con mia grandissima immensa sorpresa a quanto pare Eeeh è stato annunciato il remake di Until Dawn Una cosa che io penso non mi sarei mai aspettata in questa vita Perché comunque ragazzi Until Dawn è un gioco che è uscito su PS4 Quindi non è un gioco poi tanto tanto vecchio effettivamente Quindi il fatto che se ne escano così dal nulla improvvisamente con un remake di questo gioco Io rimango abbastanza abbastanza basita vi dirò sinceramente Infatti sono tuttora sorpresa cioè ero sorpresissima non appena l'ho letto A maggior ragione lo sono ancora di più quindi voglio proprio vedere che cosa hanno fatto vedere In questo minuto e mezzo di trailer di annuncio di questo remake per PS5 di Until Dawn Until Dawn ragazzi che noi tutti conosciamo benissimo perché io ci ho fatto una serie qua sul canale Una serie stupenda devo dire Tra l'altro un gioco che a me personalmente è piaciuto tantissimo Nonostante l'ambientazione nonostante ragazzi certi momenti di dialoghi un pochettino così assurdi Ma sono cose tipiche no di quei film diciamo horror Quei giovani quei ragazzi eccetera eccetera Quindi sono cose che sono state fatte apposta Quindi non erano difetti del gioco Sono cose che sono state fatte apposta di contorno a tutto il resto Perché Until Dawn ragazzi gioco horror a scelte in cui devi stare attento In cui i personaggi ti possono morire anche in maniera inaspettata Ma pensato veramente bene ragazzi a differenza dei dark pictures antologi Che mi hanno un pochettino delusa da tanti punti di vista Anche perché soprattutto ragazzi nell'ultimo Soprattutto ragazzi tipo anche in The Quarry ero rimasta parecchio delusa Soprattutto dal punto di vista delle scelte che a volte portavano a conseguenze assurde E questo in Until Dawn invece non capita Non succede E quindi è uno di quei giochi che giochi e rigiochi e rigiochi Proprio per vedere dove altro ti portano le altre scelte Quindi questo significa che è un gioco che è stato fatto veramente molto bene Ergo io direi di non perdere più tempo e andare a guardare insieme questo trailer Vediamo un po' Che hanno cacciato ragazzi Ci sono alcuni cose che ho bisogno di sicure che hai capito Ci sono alcuni cose che ho bisogno di sicure che hai capito Non, non, non The past is beyond our control You have to accept this In order to move forward It was just a prank man Everything you do Every decision you make From now on will open doors To the future The choice is yours I want you to remember this I want you to remember this As you play your game Ok Ok PS5 e PC E PC E quest'anno Tra l'altro 2024 Ma quando è che lo stavano facendo Cioè da quando Io non lo so se era mai stato annunciato ragazzi Me lo son perso Perché non avevo la minima idea Che fosse in cantiere questa cosa Che dire Ci hanno fatto vedere pochissimo Specialmente dei personaggi Perché dice Completamente ricostruito Completamente Eccetera eccetera Quindi dal punto di vista grafico Perché ragazzi Il miglioramento è lì Dovrebbe essere più avanti E comunque già all'epoca Secondo me è all'epoca Ne parlo come se avessi 30 anni Già insomma ai suoi tempi All'uscita ragazzi Stava avanti No da quel punto di vista Quindi il fatto che l'abbiano Migliorato ulteriormente Mi fa ben sperare Insomma Io non penso che lo prenderò al lancio Ragazzi sinceramente Per quanto comunque Mi sia piaciuto ovviamente Until Dawn Ma raga Mo' c'è danno eh C'è danno forte Con questa questione Dei remake Delle cose Perché Perché ovviamente Cercano sempre di puntare Su quelli che sono stati giochi Che comunque sono andati Più che bene Basta rivedere ragazzi Per esempio I The Last of Us Ad esempio Giochi che comunque Non erano vecchi Specialmente La parte 2 Però Comunque Ci hanno lavorato sopra Gli hanno voluti rifare Gli hanno voluti far riuscire A prezzo anche abbastanza pieno Direi Quasi Non so quanto costerà Questo Until Dawn All'uscita Perché ragazzi Perché sanno Che comunque Sono titoli Che vanno Ovviamente Adesso un Until Dawn Non è Alla portata Ragazzi Di The Last of Us Per carità del cielo Però Comunque un titolo Che secondo me All'epoca era andato Veramente forte Un titolo che sicuramente È rimasto impresso Nella mente dei videogiocatori Per esempio nella mia È rimasto estremamente impresso Ve lo dicevo prima E quindi ovviamente Sperano che Anche se sono remake Che la gente Li compri Comunque Sempre A prescindere Dall'averlo giocato Dall'averlo giocato Già o meno Quindi Io non penso Lo comprerò Al lancio Dipenderà anche dal prezzo All'uscita Sinceramente Anche se vi devo dire Sono abbastanza curiosa Ovviamente Perché essendo Mi piaciuto il gioco Sono curiosa Sare curiosa di vedere Che lavoro hanno fatto Per migliorarlo ulteriormente Mi sembrava di aver visto Che inseriranno anche cose Che non erano presenti Nel gioco originale Quindi Sono queste Di regola Aggiunte Che dovrebbero Incuriosire un pochettino Di più i videogiocatori Però Chissà ragazzi Non lo so Quel poco che abbiamo visto Mi sembra Valido Ovviamente Vorrei pure vedere Insomma Fanno un remake Che fanno Non lo fanno valido E quindi Staremo a vedere Staremo a vedere Uscirà quest'anno E Vedremo all'uscita ragazzi Come sempre Aspetto i vostri pareri Qua sotto in commento Ragazzi Fatemi sapere voi Che cosa ne avete pensato Di questo trailer Se avete giocato Il gioco Originale Se non l'avete giocato Se Lo comprerete al lancio Oppure no Questa reaction Termina qui Grazie a tutti Un bacione E ho visto A tutti ragazzi Da giocherina Ciao